Sì, è stato proclamato il lutto cittadino. Per il reparto di neonatologia all'ospedale di Termoli si attende la sentenza. Il governatore Toma respinge le accuse di chiusura al Santimoteo dal centrosinistra. Immobilismo politico-amministrativo da parte della maggioranza di centrodestra alla regione, l'accusa mossa dai banchi del Movimento 5 Stelle. Le due province hanno visto nei mesi di luglio e agosto migliaia di turisti da fuori regione per conoscere paesaggi e monumenti poco conosciuti. Nuova edizione del nostro telegiornale. Ben ritrovati. Si svolgeranno domani pomeriggio a Tavenna i funerali di Francesco Zara, il 16enne deceduto nella serata di ieri in un incidente motociclistico a Colle dell'Ulivo alla periferia del paese per cause al vaglio dei carabinieri. L'ultimo saluto ci sarà nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli del piccolo centro. Rimane in ospedale a Termoli il coetaneo che nel tragico incidente ha riportato traumi agli arti inferiori. A Tavenna domani è previsto il lutto cittadino. Il presidente della regione Donato Toma in qualità di commissario ad acta della sanità pubblica respinge le accuse rivolte circa alla decisione di chiudere il punto nascita all'ospedale di Termoli. A chi in queste ore diffonde notizie circa un mio presunto provvedimento che avrebbe disposto la chiusura del punto nascita all'ospedale di Termoli rispondo che non esiste alcun atto recante alla mia firma che vada in tale direzione. Si tratta pertanto di vere e proprie falsità. Sono queste le parole assai indignate in verità del presidente Donato Toma che naturalmente interviene come commissario ad acta della sanità molisana. Sende di essere stato accusato ingiustamente di una decisione che non ha affatto attivato, un'accusa che ritiene abbia un forte connotato di lotta politica, quella che è fatta spesso di mezze verità e di vere e proprie storie di ammiccamento a sfondo elettoralistico. Sono questi momenti che riguardano il Tar del Molise per via di due ricorsi proposti a luglio all'indomani dell'indirizzo dell'allora commissario Floride Grassi sulla chiusura del punto nascite al San Timotio in seguito alla morte di un neonato, chiusura che fu attuata ma anche revocata per evitare spostamenti e disagi per le partorienti dei comuni del Basso Molise. Il presidente precisa che la Costituzione nel ricorso è un atto formale dovuto da parte dell'avvocatura. Così conclude, spiace constatare ancora una volta come taluni strumentalizzino la sanità e se ne servano per mera propaganda politica, riservandosi eventuali azioni legali contro quanti diffondono quelle che lui chiama notizie prive di fondamento, il cui fine è unicamente quello di screditare il ruolo commissariale. Torniamo alla cronaca. Vende e veicoli usati con i chilometri scalati. La Polstrada, scoperta e denunciato per truffa, è il titolare di una rivendita auto online a Venafro. Gli agenti della Questura hanno verificato che ogni mezzo ha subito una forte sottrazione di almeno 50 mila chilometri. Le indagini condotte in collaborazione con la Polizia stradale di Roma hanno portato inoltre al sequestro di una Toyota IQ. Il commerciante sarà segnalato all'autorità garante della concorrenza per l'applicazione di ulteriori sanzioni a tutela dei consumatori. La Questura di Chieti ha denunciato l'amministratore e il direttore tecnico di una società avruzzese che ha impiegato in alcuni bar e locali notturni quest'estate a Bastomarina. Personale addetto alla sicurezza dei clienti, totalmente privo dei requisiti di legge, non iscritto nell'elenco prefettizio. Inoltre la Polizia di Stato ha proceduto a multare i buttafori irregolari che hanno svolto attività di sicurezza senza averne i titoli. Interessante la presenza dei cittadini per il vaccino anti-covid a Disernia. Le riflessioni in questo contributo del direttore sanitario Celestino Sassi che sottolinea un comportamento scorretto da chi non vuole vaccinarsi e parla anche della terza dose. Ascoltiamolo. Sono numerose le persone che hanno voluto vaccinarsi contro il covid nell'open day all'auditorium di Sernia. Nell'occasione abbiamo ascoltato il direttore sanitario dell'ospedale veneziale, il dottor Celestino Sassi che ha parlato anche della scorrettezza dei cosiddetti no-vax che hanno strappato i manifesti che avvisavano dell'iniziativa delle somministrazioni libere e senza prenotazione. Alla cittadinanza sta rispondendo benino. Quando riguarda i no-vax io ho un grosso timore. Il timore è che siano finite le parole per convincere i no-vax. In qualche modo c'è una fetta della popolazione no-vax che ha deciso di essere no-vax. A questa parte della popolazione che ha deciso di essere no-vax e che ha tutto il diritto di essere no-vax, il vaccino ad oggi non è obbligatorio, che continua ad essere no-vax ma che non faccia opere di sabotaggio nei confronti dei cittadini che invece vogliono vaccinarsi, vogliono sapere quando si vaccina. Mi risulta che siano stati, come dire, tolti via dei manifesti che facevano banalmente, semplicemente, la pubblicità di questo evento, dell'evento di oggi dell'Open Day per i vaccini, così come sono stati tolti dei manifesti che facevano la pubblicità dell'altro Open Day che c'è stato a Isernia, sabato scorso. Perché? Non lo so. Non vogliono vaccinarsi che non si vaccinino, ma che non intralcino, che non ostacolino invece, che non ledano i diritti di chi vuole vaccinarsi. Il dottor Sassi si è espresso anche sulla possibilità di dover procedere con una terza dose di vaccino. La terza dose nella tecnica dell'esecuzione si prospetterà esattamente come la prima e come la seconda. Nell'organizzazione molto probabilmente sarà concepita, eseguita, come è stata eseguita la prima e la seconda. Saranno sottoposti a terza dose prima le categorie deboli, ultra-ottantenni, patologie particolari e contestualmente gli addetti alla sanità, gli operatori sanitari. 10 nuovi casi di positività al coronavirus oggi in regione su 490 tamponi eseguiti, 5 invece i pazienti dimessi dall'ospedale Cardarelli del Capoluogo e il tasso di positività al Covid sale al 2%. La raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Campobasso deve essere estesa a tutti i quartieri e frazioni del Capoluogo. Un servizio che l'amministrazione a Palazzo San Giorgio deve rendere obbligatorio per non lasciare la discrezionalità ai residenti. I cassonetti collettivi per vetro, carta o umido in molte strade cittadine non garantisce l'esatto smaltimento dei rifiuti, ribadisce la consigliera regionale Aida Romagnuolo. Scapoli, Castel San Vincenzo, Rocchetta e Colli al Volturno nel Milino dei Ladri nelle ultime settimane, le soluzioni da adottare per scoraggiare i furti nei quattro centri dell'Alto Molise. Videosorveglianza e presenza più massiccia delle forze dell'ordine. E' quanto hanno ripetuto i sindaci di Scapoli, Rocchetta, Colli e Castel San Vincenzo per frenare la raffica di furti nelle abitazioni nell'area del fiume Volturno. Il prefetto di Isernia, Gabriella Faramundi, a nome del Comitato Provinciale di Isernia e dell'Ordine della Sicurezza, ha confermato l'intenzione di rafforzare la collaborazione con le istituzioni locali e garantire tranquillità ai residenti della vallata, sempre più impauriti dai fatti di cronaca nei propri paesi. I recenti episodi di furto nelle case, infatti, sono fonte di preoccupazione per la popolazione, che si sente più vulnerabile e a disagio psicologico a questi attacchi, probabilmente provenienti da malviventi dalla vicina Campania e dalle forze dell'ordine chiedono a ragione risposte adeguate al riguardo. La sorveglianza delle principali strade e piazze attraverso i sistemi di telecamere pubbliche sarà quindi migliorata, anche se possibile attraverso il collegamento degli impianti con le centrali operative di Carabinieri e Questura di Isernia, nell'ottica della prevenzione e repressione dei reati. Il prefetto di Isernia, Gabriella Faramondi, si è recata in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza. Ad accoglierla oggi il generale di brigata Salvatore Refolo e il colonnello Vito Simeone. La dottoressa Faramondi ha espresso il suo personale apprezzamento per l'impegno profuso nelle attività e i risultati conseguiti dalle fiamme gialle nella seconda provincia molisana. Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni a Campobasso per ribadire la raccolta firme per la proposta di referendum sul tema dell'eutanasia legale. L'ex esponente politico dei radicali Marco Cappato presente a Campobasso per sostenere il referendum sull'eutanasia legale dinanzi a Palazzo San Giorgio. Cappato è anche promotore del Congresso Mondiale per la Libertà della Ricerca Scientifica dell'esponente il quale ha messo in moto il processo che ha poi portato la Corte Costituzionale a pronunziarsi a favore dei diritti dei malati. Ascoltiamolo. Ormai non c'è una famiglia italiana che non abbia direttamente o indirettamente avuto a che fare con stare a fianco di un malato terminale in una condizione di sofferenza e quindi non hanno avuto bisogno che fossero i capi dei partiti o della politica ufficiale a spiegare l'importanza di questo tema, l'importanza di essere liberi di decidere proprio nei momenti più drammatici della vita di una persona e quindi sono creati gruppi di volontari in tutti i paesi anche nei centri più piccoli e siamo andati oltre ogni previsione. Come sul divorzio, come sull'aborto, sull'eutanasia nessuno sarebbe obbligato, né il paziente né il medico, sarebbe una scelta in più per chi la vuole compere, per chi non vuole più subire una condizione di sofferenza insopportabile contro la propria volontà, ci sarà questa possibilità legalmente invece della minaccia come oggi del carcere fino a 15 anni perché è questa la legge del 1930 che vogliamo abrogare, la minaccia del carcere sulle scelte del fine vita. Siamo alla politica, il silenzio regna sulle questioni più importanti aperte in regione, le commissioni non hanno varato alcun progetto di legge a Palazzo d'Aimmo a causa di una immobilità politico-amministrativa, denuncia il Movimento 5 Stelle, centrodestra rende impossibile qualsiasi approfondimento, come nel caso del progetto Sud Beach a Montenero di Bisaccia, sul quale ancora non è possibile conoscere la consistenza dei capitali da investire e la loro provenienza. Un altro aspetto per le opposizioni in Consiglio regionale riguarda le politiche del lavoro e quelle industriali. Negli stabilimenti Stellantis di Termoli, Unilever di Pozziglia, l'ex GAM di Boiano. A Chiauci, come da alcuni giorni ormai notizia diffusa, nessuna lista è stata presentata alla segreteria del comune per le elezioni di ottobre. Il comune della provincia di Sernia sarà quindi commissariato. La notizia sta tutta nel fatto che mentre in alcune città e in moltissimi comuni si è registrato un alto numero di partecipazione alle liste per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, esiste in Molise un luogo dove non è stata presentata alcuna lista e sarà per questa mancanza commissariato. Si tratta di Chiauci, un piccolo comune di 268 abitanti in provincia di Sernia. Dopo il primo cittadino uscente, Alessandro Di Leonardo, che ha sottolineato la difficoltà di amministrare, sendendo l'enorme distanza dalle istituzioni a partire dalla regione, ne parlano i cittadini. Un po' difficile da digerire perché comunque usciamo da una buona amministrazione, a mio modo di vedere, però adesso è diventato troppo complicato, penso gestire un comune, i sindaci sono un po' troppo soli, quindi presentarsi alle votazioni è diventato veramente una scelta difficile da prendere. Presumo che prima o poi qualcuno riuscirà a formare una lista, le due liste che servono per poter amministrare queste poche anime che siamo. Pensiamo che non ci sono persone disponibili del posto, perché qua ci stanno pure alcune persone, però vengono tutte da fuori e alla fine rimangono pochissime persone che si sono ritirate come capolista e allora non hanno formato un gruppo di giovani per prepararli nel futuro 4-5 anni di comando al comune. Ma se non ci sono dei capolisti cosa possiamo fare? Poi ci vuole anche un accordo tra persone, una collaborazione di minoranza, maggioranza, perché il paese è piccolo e quindi è inutile mettersi minoranza da una parte e maggioranza dall'altra. Purtroppo non è il primo anno che succede, anche in passato abbiamo avuto questa pausa commissariale e in passato è servita per smuovere un po' le coscienze dei cittadini. Speriamo che anche quest'anno sia così, che magari questa pausa serva per far sì che si crei una lista delle liste elettorali. Il problema principale sta nel trovare appunto il candidato sindaco, visto che siamo un paese di pochi abitanti, per lo più anziani e quindi non è semplice trovare qualcuno disposto ad assumersi queste responsabilità e quindi ad amministrare comuni che ormai sono pieni di problemi. Non soltanto la disaffezione al voto, ma a Chiauci anche alla candidatura. E' terminata la sostituzione delle panchine in piazza Musenga, in pieno centro a Campobasso. Le nuove 12 panche sono state costruite per duratene nel tempo e realizzate secondo lo stile il disegno dell'antica arte del ferro battuto. Il rinnovo delle panchine in piazza Musenga si aggiunge alla riqualificazione del giardino comunale, alla riattivazione della Fontana al centro della piazza e alla messa a dimora di nuovi alberi, quest'ultima programmata in autunno. Sempre a Campobasso il Consiglio comunale ha deciso di accogliere la mozione presentata dal PD e votare a favore per l'intitolazione di un luogo a Gino Strada e alla moglie Teresa Sarti scomparsa nel 2009. La decisione che impegna l'amministrazione del sindaco Gravina dimostra la sensibilità dei gruppi in direzione di una coppia che ha fatto della solidarietà la sua ragione di vita. Sono stati molti turisti quest'estate che hanno visitato la regione scegliendo anche i luoghi più importanti del capoluogo come il castello Monforte. Vediamo! È stato un buon periodo quest'estate per il turismo nel Molise. Un po' ovunque si sono registrate presenze in netto aumento rispetto al passato. Tra le mete visitate è anche Campobasso che ha incuriosito i numerosi visitatori che hanno voluto conoscere alcuni dei luoghi più interessanti, soprattutto quelli del centro storico e prima di tutti il castello Monforte. Del flusso turistico abbiamo ascoltato Antonio Salvatore della cooperativa Laboratorio Aperto che ha curato le aperture e le chiusure del castello senza dubbio il più significativo simbolo della città. Da una prima stima che abbiamo fatto diciamo che siamo sui 2.500 visitatori. È un dato comunque che va rivisto. Le spiego il perché. Perché questi numeri noi li prendiamo dal registro presenze che abbiamo all'ingresso del castello, all'ingresso del Sacrario. Ovviamente non tutti quanti, non tutti i turisti firmano e soprattutto piccole o grandi comitive di solito firma una persona sola. Quindi la stima è che siamo sui 2.500 visitatori però non temiamo di essere smentiti se cerchiamo di alzare un po' l'asticella. Per quanto riguarda invece la provenienza, diciamo che arrivano da tutte quante le regioni d'Italia. Con il Covid abbiamo riscontrato un maggiore interesse nei confronti del nostro piccolo ma a questo punto attraente Molise. Nella città di Campobasso uno dei luoghi maggiormente visitati è proprio il Castello Monforte, qui in cima alla collina. C'è anche un turismo che arriva da fuori Italia e fuori dall'Europa. Per quello che riguarda il turismo che arriva fuori dall'Europa, per la gran parte è un turismo di ritorno. Quindi si tratta di persone originarie del Molise che tornano dopo alcuni anni di assenza e quindi fanno una capatina qui al Castello Monforte. Dall'Europa invece abbiamo anche riscontrato tanti turisti, soprattutto dal nord Europa, che hanno scelto l'Italia, il Mezzogiorno, anche alcune regioni del sud e sono venuti a visitarci, a trovarci anche qui a Campobasso. L'Isernia Camper Club sarà presente sabato 11 a Parma per il Salone Nazionale Camper, una manifestazione che sarà visitabile fino a domenica 19. La città di Isernia non ha però un'area adeguatamente attrezzata per i camperisti, come invece a disposizione nei paesi di Miranda, Pescolanciano, Pietrabbondante, Agnone, Rocchetta, Volturno, solo per restare in Alto Molise. Il quartetto del Conservatorio Perosi di Campobasso in concerto, questa sera al centro polifunzionale a San Giuliano di Puglia. Musiche di Scarlatti, Ermosa, Piazzolla e ben ci venga alle ore 21 invece a San Pietravellana, Brani Jets con Simone Sala, Mino Berlano e Oreste Sbarra. Siamo adesso al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e inviale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Cielo coperto a tratti oggi su gran parte della regione. Possibili fenomeni temporaleschi nel corso della giornata. Le temperature sono comprese fra la minima di 13 gradi a Campobasso e la massima di 28 a Isernia. Domattina ancora tempo incerto e rovesci. Mosso il mare adriatico, venti deboli, variabili. Massime in calo. Per la pagina sportiva iniziamo dal calcio. Il Boiano inizierà sabato sul difficile terreno di gioco di Sesto Campano, il nuovo torneo di eccellenza. Una squadra molto giovane con l'obiettivo di un campionato di metà classifica. A Boiano il calcio dilettantistico ha rischiato di sparire. Al capezzale dei Biancorossi hanno risposto alcuni imprenditori del posto e atleti dell'area matesina. L'obiettivo per questa stagione sportiva è quello di mettere in vetrina i numerosi giovani e fare un torneo senza grosse pretese. Alla guida è stato richiamato l'esperto Matteo Varanese. Noi pensiamo soprattutto al campionato perché noi dobbiamo fare un campionato dignitoso. Abbiamo un prodotto quasi tutto locale. Non abbiamo persone che vengono da fuori tranne due ragazzi di colore ma che sono a Boiano. Non è che lavorano a Boiano, sono a Boiano. Per il resto sono tutti ragazzi del posto. Questo deve farci onore e fare onore ai ragazzi di Boiano che hanno accettato questa difficile situazione che si era creata perché di colpo il Boiano stava sparendo e hanno accettato il progetto e sono corsi in massa a giocare a calcio. Vede secondo lei un calcio ridimensionato in regione? Ma per forza dopo due anni di lockdown qua, i campionati fermi, i ragazzi bene o male non hanno fatto niente. Quindi ho visto quando c'erano in preparazione, abbiamo iniziato, i tempi erano altissimi ma non abbiamo mai forzato proprio perché dovevano recuperare con i tempi giusti per non rischiare infortuni. Infatti oggi come si è visto il secondo tempo la squadra ha corso tanto, siamo andati sempre in pressione sui portatori di palla loro e il centrocampo ha girato tantissimo. Mauriello ha spinto tanto sulle ripartenze, Daniele Di Camillo nonostante sui 40 anni, gioca ancora con buoni risultati e quindi andiamo a lavorare. Questo lavoro ci porta dove dobbiamo arrivare, noi dobbiamo salvarci e lo faremo con tutta la calma possibile. Il tennista molisano Alessandro Aufiero prosegue il suo percorso personale agli Open 2021, città di Campobasso, dopo essersi affermato sul campano Davide Festa, sul piemontese Cristian Carassai e infine contro il siciliano Stefano Platania. Aufiero è ancora per quest'anno un tennista di Serie C. In campo femminile invece la termolese Giulia Vetta si ferma perdendo contro Beatrice Guccione che dalla Sicilia ha scelto il Molise come terra d'allenamento. Ed infine le ragazze della Magnolia, Campobasso domani sera alle ore 20 sfideranno il Ragusa per il memorial di pallacanestro Francesco Passalacqua. La seconda partita è prevista sabato alle ore 17 contro la Dinamo Sassari. L'obiettivo per il tecnico Mimmo Sabatelli è quello di un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita del quintetto rosso-blu. E con la pallacanestro femminile è veramente tutto. Grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci. Grazie a tutti.